Ancora un'aggressione a un autista di un mezzo pubblico a Foggia? Sì, purtroppo questo è l'ennesimo gravissimo episodio che è occorso a un operatore di esercizio sulla famigerata linea 24. Questa volta la gravità ha sfiorato la tragedia assoluta perché l'aggressione da parte di un extracomunitario poteva sfiorare la tragedia in quanto lo stesso ha tirato fuori addirittura un coltello per cui l'operatore di esercizio è stato aggredito, pestato e soccorso immediatamente portato in ospedale. Fortunatamente per un caso fortuito c'era una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a bloccare il malintenzionato. Questa situazione è una situazione ormai annosa che questo episodio ha toccato l'apice con questo grave incidente però ormai non è più una questione che si può demandare a un'azienda di trasporto pubblico che si occupa come è noto di trasportare le persone nell'area urbana e suburbana. È un problema di ordine pubblico per cui noi ci siamo attivati anche la segreteria nazionale ha emesso una nota perché la Faisa Cisal è sempre stata molto sensibile alle aggressioni per gli autisti per cui ci siamo attivati immediatamente abbiamo fatto una nota indirizzata all'assessore ai trasporti regionali, al prefetto, al commissario prefettizio proprio per mettere la parola fine a questo stato di cose intavolare un tavolo di discussioni per trovare una situazione condivisa una soluzione condivisa. Qualora questo non sarà possibile noi metteremo in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione abbiamo pensato anche allo stato di agitazione di tutto il personale perché non è ammissibile, non è pensabile che un padre di famiglia che espleta un servizio di trasporto pubblico può rischiare la vita è una situazione di degrado sociale senza precedenti in questa città che non merita assolutamente e merita una risposta concreta e ferma da parte delle istituzioni per cui noi ci siamo attivati per far emergere la questione e accendere un riflettore su questa situazione